La corsa è in programma al Cirigliano di Aversa, corsa abbinata alla Tris Quarte Quinte, un doppio chilometro per anziani. In partenza Magic Rivarco scavalca alla Mermur. In terza posizione si sistema My Little Boss, parte forte dalla seconda fila Laurio Lasol. Mermur, che adesso retrocede in cerca di una schiena, muove My Little, parato però da Lammermur. Evidente il rallentamento di Magic Rivarco, 14.5 in lancio, poi rallenta e così My Little Boss anticipa il mistero del nord. Interviene anche Nishangal, dalle retrovie si fa avanti Nievoz. In coda al gruppo il favorito Nellison, che precede, ancora più dietro, Okavango B. 32.5 il quarto iniziale, sceglie i tempi giusti Maisto e dopo 649 passa a condurre. Attaccato da Nievoz, Nievoz si chiede strada e la ottiene al completamento del giro di pista, percorso in 1.3. È un colpo di scena questo, Nievoz al comando, Nishangal in seconda posizione. Quando manca? Un chilometro circa alla conclusione. I primi millimetri percorsi in 1.18, è rimasto a largo mistero del nord che non progredisce più di tanto. In schiena c'è Laureo Lasol, si elimina mistero. Adesso sta rifiatando Nievoz, dalle retrovie si fa vedere Nellison, che scavalca diversi concorrenti. Ancora Laureo Lasol, che cerca un'altra schiena, trova quella di Nellison. Ha rifiattato con una frazione in 17.5 Nievoz, adesso è affiancato da Nellison. Poi Nishangal lungo la corda, ma è litto il boss. Mancano 600 alla conclusione. Laureo Lasol, ancora vitale a largo, sta insistendo Nishangal. Anzi Nellison, che scavalca il calante Nievoz, si muove Nishangal. Miglio in 2.6, Nellison, Nishangal e Nievoz. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sabato 9 marzo. Buona serata.